Ciao, siamo a Milano, la capitale della fashion del mondo, con Francesca Cina da MyWay. Dove vi consiglieri ad andare a shopping in Milano? Trovano negozi con brand molto alti come Luvitone, Dolce Gabbana, oppure un'altra zona che è la mia preferita è Corso Vittorio Emanuele, dove ci sono brand più alla portata di tutti, come Zara, H&M. Quale è un paese per sottolineare con i miei amici e per incontrare nuove persone? O dove dovremmo andare a Milano? Una zona molto carina di Milano per uscire la sera è sicuramente Arco della Pace, ricco di locali che fanno sempre tantissima musica, Ci sono aperitivi molto buoni, quindi diciamo che è la zona dove consiglierei ad andare a una ragazza che vede Milano per la prima volta. Can you tell us about your outfit? Because you look really really fashionable today, I love it. Grazie, allora io mi vesto molto semplice. Oggi indosso uno dei miei capotti preferiti, che è il mio My Step per l'inverno, ed è un camel coat di H&M, e un maglione bianco abbinato con un jeans di contatto. Poi, diciamo che, dato che mi vesto molto semplice, cerco di spiccare con gli accessori, quindi indosso delle Adidas, un'edizione limitata, con la punta in metallo, e una borsa di Steve J.K. con disegnati supereroi. Grazie mille per riconosceremo, per daremo tutti i vostri tipi oggi. Grazie a tutti. Grazie a tutti.